Accompagnare le donne vittime di violenza in uscita dalla fase di urgenza in un percorso di autonomia lavorativa e abitativa. Sono questi in sintesi gli obiettivi principali del progetto Autonomia Sostantivo Femminile, un'iniziativa promossa dall'Associazione Liaps Laboratorio Innovazione di Pescara in partnership con l'Associazione Novissi, in collaborazione con Ananche e con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Regione Abruzzo. Il progetto infatti è stato selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico della Regione per il finanziamento riservato a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni per la realizzazione di attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore. Questo progetto consiste in due linee specifiche che sono l'autonomia abitativa e l'autonomia lavorativa per donne vittime di violenza in uscita dalla fase di urgenza. Sono due linee che saranno supportate da interventi specialistici sia dal punto di vista appunto dell'orientamento, la formazione e l'accompagnamento delle donne al mercato del lavoro, dall'altra parte da esperti che supporteranno le donne nel facilitare la ricerca di alloggi sicuri, alloggi a costi accessibili per chiaramente una maggiore sicurezza dei propri affetti e di se stessa. Le donne, soprattutto quelle che escono dalla fase di urgenza, hanno bisogno di riappropriarsi della loro vita, hanno bisogno nello stesso tempo di riconquistare i propri spazi e quindi di conseguenza noi vogliamo veramente dare una mano e facilitare il loro cambiamento e facilitare anche la riconquista dell'autostima in se stesse.